E invece puoi, e invece puoi fermarti, Luca Bjorn, davanti a te vedi il volto della classe, il volto, un grande volto in realtà del wrestling italiano e stiamo parlando di Luca De Pazzi, Luca De Pazzi. Vedi, io e te abbiamo in realtà un rapporto che è in particolare, nel senso che ci siamo allenati nella stessa scuola e sotto lo stesso mentore, ma diciamo che uno dei due ha perso un po' la via. Mr. Excellent ci ha insegnato la tecnica, la classe, l'eleganza, la purezza. Io in te vedo solo uno scappato di casa, questa è la realtà. Sarò onesto, sei un grande atleta, hai dato prova di essere capace di grandi vittorie, di vittorie inaspettate, di grandi successi, ma diciamocelo, non sei all'altezza del vero, unico e solo numero uno. E sai cosa? Sai cosa? Luca De Pazzi prenderà il suo jet privato dall'aeroporto di Edinburgh e arriverà fino a Bergamo, dove poi prenderà una limousine che lo porterà al palazzetto dove si terrà Fight Forever e Luca De Pazzi se la vedrà con Luca Bjorn e dopo saranno i risultati a parlare. Ci si vede sabato.